mezzi rigatoni ovviamente di gragnano e qua abbiamo il pecorino romano con un cucchiaino di pepe ragazzi l'acqua bolle buttiamo un pochino di sale e buttiamo i nostri mezzi rigatoni prendiamo un pochino l'acqua della cottura e lo mettiamo qui dentro buttiamo un pochino d'acqua vedete ragazzi sta creando una bellissima cremina buttiamo i nostri mezzi rigatoni mettiamola ragazzi ecco la mia cacio e pepe ok